Un calendario con un unico comune denominatore, l'ambiente, è quello dell'arma dei carabinieri. La protagonista assoluta è la natura dunque e la sua difesa, dalla caccia ai piromani, alla difesa del patrimonio faunistico, alla lotta all'inquinamento, passando per la difesa di una civiltà agroalimentare unica nel mondo. 12 tavole che raccontano storie di tutela dell'ambiente a 360 gradi, ciascuna delle tavole parte da un elemento riconducibile all'universo visivo dei carabinieri per raccontare le tematiche legate all'attività quotidiana degli stessi militari. Il tema ambientale è quanto mai attuale nel Basso Lazio? Sicuramente l'arma presta molta attenzione al tema dell'ambiente. Con l'istituzione del comparto CUFA, quindi del Comando Unità Forestale, Ambientale e Agroalimentari, l'arma con i suoi 7.000 uomini rappresenta la più grande forza di polizia ambientale in Europa. Un tema, quello dell'ambiente, che è entrato anche all'interno della Costituzione, pensiamo alla modifica dell'articolo 9. Questo significa che sono argomenti centrali nel dibattito quotidiano? Sì, fino al 2022 la Costituzione prevedeva solo la tutela del paesaggio. Attualmente invece prevede anche la tutela dell'ambiente, la tutela della biodiversità e dell'ecosistema. Sono tutte attività che l'arma con le sue specialità cerca di contrastare i fenomeni illeciti che li riguardano. Il Comandante Generale ha voluto dare la giusta importanza alla tutela dell'ambiente, a tutti quei comparti di specialità che dell'arma dei carabinieri interagiscono con il territorio, con le comunità che insistono, con le produzioni agroalimentari, e quindi ha messo al centro, anche nella transizione ecologica, il ruolo che l'arma dei carabinieri ha nel dare, con il supporto alla tutela sia alla fauna che alla flora, il proprio posto nell'ambito di questo progetto. Nella rappresentazione di un prodotto, nella tutela di un marchio made in Italy, nel mondo questo vuol dire aumento di eccellenza, aumento di costo. Dietro a quel costo ci sono contadini che lavorano la terra, artigiani che curano e lavorano un tessuto, e quindi questa tutela dove l'arma dei carabinieri si inserisce con le parti di specialità deve essere ricordata.